Un'auto ribaltata sul cavalcavia della ex Alebole ad Arezzo, ancora dunque un incidente sulle strade della provincia. È successo questa mattina a lungo viale Don Minzoni, quattro i mezzi coinvolti nello schianto. Un veicolo per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltato. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo, i vigili del fuoco e i mezzi dell'emergenza urgenza. La persona che si trovava al volante dell'auto ribaltata è rimasta ferita. Si tratta di un uomo che i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere e poi affidato alle cure dei sanitari dell'ospedale San Donato. Traffico in tilt a seguito dello schianto, la circolazione in un tratto sempre molto trafficato ha ovviamente subito gravi rallentamenti.